De botto senza senso, Visual Capitalist. Visual Capitalist è un sito, come lo vogliamo chiamare, un blog, è un blog, fanno molto altro, hanno anche un'app, hanno anche altri report, sono un po' i statista meno quantitativi, meno utili. Però mostrano spesso graficamente, in maniera visuale, delle distribuzioni, dei grafici, dei time series, varie visualizzazioni di aspetti finanziari, economici e così via. Questo che vediamo oggi, così al volo, è The Global Distribution of Wealth by Region. Qui abbiamo le aree geografiche, abbiamo Africa, abbiamo Asia Pacific, abbiamo Cina, che è separato da Asia Pacific, abbiamo India, che è separato da Asia, è separato da tutto quanto, Europa, è bello che in Europa c'è anche la Russia fino allo stretto di Bering, nell'Europa. Va bene, ok. Non sapevo che se stavo, se toccavo l'Alaska e Europa. America Latina e Nord America, in Messico, incluso nell'America Latina. E abbiamo distribuzione di sotto i 10.000 dollari di patrimonio. Quindi, come sono distribuite nel mondo le persone che hanno meno di 10.000 dollari di patrimonio, percentuale di Global Adults. Ok? Quindi, India, Asia, Cina, Europa, qualcosina, tanta America Latina, poco Nord America, ovviamente, tanta Africa. Quindi, diciamo, le regioni più ricche hanno meno adulti con così pochi soldi. Se andiamo in fascia a 10-100K, abbiamo che esplode la Cina. Quindi, la Cina, essenzialmente, il grosso dei cinesi, hanno tra 10-100 e 300-1 milione. E comincia a diminuire l'India, che poi sparisce nelle fasce più avanzate. L'America Latina già sparisce. Minchia, sono abbastanza poveri in America Latina. E cominciano a salire i 10-100K, l'Asia Pacific, un po' di Europa. 100K, un milione. L'Africa ormai sparisce sotto 1%. Cresce, mi serve un po' l'Africa, l'Asia Pacific, Cina, India. Sparisce anche l'India. C'è molta Cina, c'è molta Europa, c'è molto Nord America. 10-100 milioni, sei mass affluent, come abbiamo visto l'altra volta. Quindi, mass affluent, abbiamo molta Cina, più di quella come aspettavo. Asia Pacific, quindi vari Giappone, Australia, Corea, Singapore, paesi sviluppati, anche paesi meno sviluppati. Europa e Nord America. Sono sparite, quasi del tutto America Latina, sparita l'India e sparita l'Africa. Tendenzialmente metà popolazione mondiale è già sparita. Sopra il milione si rimpiccioliscono sensibilmente Asia Pacific e Cina. L'Europa resta stabile, spopola il Nord America. Qui parliamo non di total wealth, ma solo di percentuale di adulti. Quindi, se fosse stata la somma di patrimoni, l'America è ancora molto più larga. Perché qui c'è questa gente che ha un milione e gente che ha 250 miliardi. Ok? Boh, interessante. Ci stanno poi a dei dati, ovviamente. Si può trovare di più. Così, così. Nord America ed Europa, che hanno economie avanzate, rappresentano la più grande share della gente, sono più di un milione. I milionari. Che poi mezza Europa qua è Svizzera, ve lo dico. Mezza Europa è Svizzera. Se avessero scorporato la Svizzera, sarebbe stata inesistente qua, inesistente qua. Qui qualcosa e qui, pom, 15%. Per sparire anche l'India. E in effetti la cosa interessante è che se si va in percentuale di abitanti, non percentuale relativa della popolazione, per sparire è strano. Perché la Cina c'è ancora qua, qui la Cina c'è ancora. Ma la Cina ha un miliardo e mezzo, ha il 20% della popolazione mondiale. Quanto è là? Sarebbe interessante sovrapporlo con la percentuale di popolazione mondiale, che hanno queste regioni. Andiamo un po' a spanne. Cina e India con un miliardo e mezzo, facciamo finta che siamo 7 miliardi e mezzo. Se ne prendiamo è un quinto e un quinto. Se è 20 e 20, un 40% Cina e India. Poi? E poi c'è da sparpagliare un po' le percentuali in giro. Il resto di Asia Pacific, secondo me, con l'Indonesia, con tutti i paesi del sud-est asiatico, potrebbe fare un altro 20%. Potrebbe tranquillamente. Però, ok. Infatti ancora è rappresentata l'Asia Pacifica. Perché ha senso per il continente? Sì, in effetti. Ammetto che non è la migliore rappresentazione, come hai visto in vita mia. Però è interessante. Trovo che sia interessante. Quindi in Europa ci sono i benestanti. Quindi vi lamentate voi. Vi lamentate. Del sistema pensionistico che si piglia tutto l'IRPEF. Vi lamentate. Ma state bene. State meglio di quello che pensate. Confetti. Sono i benestanti. Ci sono i benestiti. Ciò c'est la prima esblade hemisphere. Ci sono le reg